Che va in aria, colpo di testa di Inglese! Il pareggio del Chievo! Roberto Inglese mette tutto a posto per i Clivensi, 1-1! L'esultanza in panchina del Chievo Verona, qui andato in cielo Roberto Inglese ad impattare il pallone con la fronte, 1-1! All'improvviso una palla inattiva calciata da Birsa, ma attenzione, tutto fermo, posizione di offside, rivediamo!